ma che dove siamo una pantera di pietra gigante in mezzo a una città siamo da qualche parte a wakanda quindi quello strano portale ci ha portato a wakanda è forse potremmo incontrare un attimo guardate eccolo quindi sembra che anche wakanda abbia una di quelle barriere quella porta sembra robusta credete che riusciremo a buttarla giù sono forte ma non abbastanza per spaccare porte giganti di vibragno volevo vederti rompere qualcosa non dirò bugie speravo di vedere una super entrata segreta scusa qui non c'è niente solo un ammasso di roba per computer roba per computer eh io la so usare che caldo oggi non 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 E siamo dentro! Ottimo! Ora possiamo raggiungere Cloth. Andiamo! Proprio così, il nuovo criminale Kang afferma di aver rubato Manhattan e di averla giunta ad altre regioni conquistate nel tempo e nello spazio. Al centro della città del tempo, Cronopolis, sorge la vera cittadella di Kang, che si dice esista fuori dal tempo. Kang dice anche che sia impossibile fuggire dalla grande mela al momento. Infatti, secondo le mie fonti, alcuni supercattivi della Terra hanno lasciato Manhattan. L'efferato clone è un chiaro esempio. Il furfante sonico è stato visto uscire da Manhattan per andare... beh, chissà dove. Nuova nota. Brevettare il nome Cronopolis. Potrebbe affruttare. Ecco di nuovo il mio senso di ragno. Qualcosa non va. A parte il fatto che subito fuori dal centro di Manhattan c'è l'intera giungla di Wakanda? Avengers. Sono io, Black Panther, sovrano di Wakanda. È bello rivedervi, amici miei. Chiedo scusa se vi ho spaventato. Spaventato? Io? No! Odio interrompere questa rimpatriata, ma a quest'ora Claw sarà già a metà strada nella giungla. Claw... Anche io sono sulle sue tracce. Lo abbiamo seguito fino a qui. Puoi sbloccarla? Certamente. Ah? Ah! Grazie dell'avvertimento, Micione. Che ci faranno Claw e quel suo amico scimmione con tutto quel vibragno? Venite. Scopriamolo insieme. Come facciamo ad entrare? Queste porte sono impenetrabili perfino per me! Non proprio. Gli esplosivi in quei carrelli servono per l'estrazione del vibragno. Faranno esplodere facilmente quella porta. Quindi basta spingere uno di quei cosi fin lassù. Grandioso. Il frutto nato dal lavoro più duro è spesso il più dolce di tutti. Non so bene come funziona. Molto insieme. Grazie. 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 La tecnologia qui dentro è incredibile. Sì. Grazie al vibranio che estraiamo qui siamo molto più avanzati rispetto al mondo che conoscete. È incredibile. Per caso organizzate campeggi estivi o cose del genere? Fatemi uscire da qui. Grazie. I pazzi mancanti dei binari sono lì dentro? Vibrani o fuso. Dobbiamo proseguire con attenzione. È volente. Ehi, proprio come me. Diamo un'occhiata in giro. Deve esserci un modo per sgomberare tutto. Dì, anche a resta del giro. Dice. Di più. Questa è un'occhiata in giro. Non? Dice. Ma come ho fatto a cacciarmi in questo pasteccio? Forse questo è per eroi, poteri, una roba super avanzata. Forse questo è per eroi, poteri. Forse questo è per eroi, poteri, 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 poteri. Forse questo è per eroi, poteri, 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 poteri Grazie a tutti. 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 E adesso... Grazie a tutti. Grazie a tutti.